Buongiorno a tutti ragazzi Noi oggi siamo pronti per andare a farci un bel weekend al mare E partiamo Ed eccoci finalmente arrivati Ora ci stiamo un secondo Ci vestiamo eccetera E poi andiamo giù a mangiare E finalmente, finalmente Era da tantissimo che noi facciamo un bel vlog Andiamo Ragazzi siamo appena arrivati in spiaggia Ora ci godiamo questo tramonto È ancora un po' presto però vabbè E poi andiamo a mangiare Ragazzi ci siamo appena seduti E ora andiamo a mangiare Ragazzi mentre sto aspettando pistacchio e vongole Schivo pure le zanzare Che ci stanno a massacrana tragedia E dopo una buonissima cena Siamo tornati qua E siamo pronti per andare a letto E noi ci vediamo direttamente domattina Buongiorno a tutti ragazzi Siamo pronti ad andare al mare Quindi prendiamo la macchina Andiamo verso Baratti E prima di andare in spiaggia Ci andiamo a visitare le tombe etrusche Andiamo Grazie a tutti ragazzi abbiamo appena finito la città e ora andiamo in spiaggia finalmente ed eccoci qua io e i miei due amici qui che stanno scappando andiamo in spiaggia e ci andiamo a godere il resto della mattinata anche perché questa gira dura un'ora e mezza ma già sono volate un paio d'ore ma bellissimo ragazzi siamo finalmente arrivati a san vincenzo dopo qualche ora di spiaggia io ho già il collo praticamente in fiamme però abbiamo scoperto una nuova spiaggia molto bella vicino a cantabaratti e probabilmente ci torneremo vi shippate il primo vlog dell'estate che insomma sarà così no forse il primo vlog no dell'estate però sicuramente quasi insomma ve la faremo vedere adesso andiamo a darci un tono non è vero andiamo a mangiare la granita la granita quella palermitana picchia di palermo venite con noi regà veramente buonissima ma sai che capelli che c'ho comunque io compaio sempre un po' perché siamo stati al mare devo dire la verità se non si fosse capito siamo stati al mare spero che l'abbiano capito tutti dai il collo si capisce allora questa sera abbiamo un dubbio su dove andare a mangiare e soprattutto cosa andare a mangiare e soprattutto perché ci pesa il culo non vogliamo riuscire un'altra volta avete presente quel momento che ti fai la doccia sei tornato dal mare eh? però alla fine cioè noi abbiamo fatto questo veramente San Vincenzo baratti baratti San Vincenzo poi non dovrebbe tornare eh cioè che basta una rottura dei coglioni comunque detto questo vi faremo sapere dove andiamo dai lo schiaffone ragazzi siamo finalmente tornati a Firenze e dopo quel sexissimo io in doccia questo video si conclude qua vedete questo vlog come il primo tuffo al mare di quest'anno anche se breve poi questo sarà il primo vlog dei tanti che arriveranno diciamo durante tutta l'intero arco estivo e se l'anno scorso siamo andati in Florida quest'anno andremo non ve lo diciamo vi dico soltanto che come l'anno scorso staremo diciamo due settimane a giro in questo bellissimo stato a girare 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 e vedere cose bellissime detto questo grazie mille per essere stati con noi noi ci vediamo alla prossima grazie grazie grazie